buongiorno bambini oggi vi faccio vedere la mia casa delle bambole e vediamo insieme cosa fanno le mie bambole c'è lucia luca e la piccola sofia ma guardiamoli da vicino vediamo che cosa fanno in questa casa giochiamo questa è lucia ed è la mamma questa è luca ed è il papà e poi c'è la piccola sofia che è nel passeggino nella culletta vediamo chi c'è la mamma dorme lucia dorme luca cucina sofia dondola il cane mangia i genitori sono seduti sofia gioca torta cuoce la mamma scende la mamma cucina la torta il papà mangia la torta lucia lucia fa la pipì luca porta spasso sofia il papà spinge il carrello la mamma beve l'acqua il papà va a letto lucia va in bici lucia sale sul cavallo sofia scende dallo scivolo luca sale spero che questa storiella vi sia piaciuta se vi è piaciuta mettete il pollice all'insù iscrivetevi al nostro canale ciao 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 ciao